Dedicato BMW Mini e Mini Countryman, recupero comandi al volante, stazioni in memoria, abbiamo anche il volume con pomello, poi accediamo alla home, benvenuti su Maps, DSP, processore sonoro, gestione video, Apple CarPlay e Android Auto, sia via cavo che non, decide il cliente come impostarlo, Car Setting, a secondo degli option della macchina andiamo a recuperare le funzioni della macchina, questi sono dati che prende in automatico, illuminazione, possiamo eseguire anche lo split screen a secondo delle app che apriamo, Maps e possiamo lasciare radio e navigate ore in contemporanea. Vi ricordo che tutti i nostri prodotti sono disponibili per essere il nostro shop, abbiamo eseguito anche la retrocamera.